Dell'Utri, Scaiola, Cosentino, adesso le ho la possibilità di rispondere, l'ultima mia domanda dell'Utri, Scaiola, Cosentino, poi buono aiuti che se ne è andato. Sono persone che hanno loro storie personali, mi addolora che abbiano avuto queste cose, ma sono da tempo, non partecipano più alla vita del partito, non sono mai stati... Però sono stati molto importanti per il partito, no? Neppure candidati e altri sono stati candidati, ma non lo sono più, né nelle elezioni nazionali né nelle elezioni europee. Ma c'è qualcosa che non ha funzionato se quello che tiriamo come somma è questo? C'è qualcosa che non ha funzionato? Se mettiamo in fila queste storie, no? Io conosco, sono amico e lo conosco dal tempo dell'università di Dell'Utri. È una persona di una bontà, di una onestà, di una cultura difficile da trovare in altre persone.